L'attività di prevenzione e repressione riguardo ai traffici alla diffusione delle sostanze stupefacenti della Guardia di Finanza di Rimini può contare sul prezioso aiuto di due unità cinofile composte dai cani antidroga Ovus e Ulla e dai rispettivi conduttori che negli ultimi anni hanno dimostrato un grande affiattamento e un ottimo livello di addestramento confermato dagli eccellenti risultati nel settore. Solo nell'anno appena trascorso e nei primi mesi del 2014 l'impiego dei cani antidroga ha permesso di sequestrare circa 6 kg di marijuana e hashish ed un chilo circa di cocaina ed eroina. Ovus e Ulla inoltre hanno partecipato attivamente all'operazione 100% che pochi mesi fa ha permesso di sequestrare un quantitativo di cocaina, eroina e sostanza da taglio pari a 270 kg circa. I sequestri, sia amministrativi che penali, hanno portato alla denuncia all'autorità giudiziaria di 11 soggetti, di cui 7 tratti in arresto, per l'ipotesi di reato di spaccio di sostanza stupefacente e alla segnalazione alla prefettura di Rimini di 28 persone. Le unità cinofile inoltre sono spesso messe a disposizione dei reparti del Corpo Limitrofi e delle altre forze di polizia che ne fanno richiesta.